Ragazzuoli, bentornati subito sul server Non vi dirò bugie Sarò molto zitto Voglio essere molto concentrato In In questo In questo gameplay Not for me Not for you Where do you want to go? I don't know, I'm looking Cioè questi vogliono giocare Non safe, stra safe E poi si parte Fiii Questa l'ho scoperta da poco ragazzi Let's gooo Beh Helmet level 2 Questa che è È un M-lock Arrivo Meglio 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 Non ringrazio nessuno Non ho bisogno di nessuno Oh Ah Il 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 Level 2 Iiii Ah Io la posso fare Voi no Merda Ahahahahah Ahahahahah Ahahahah 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 Ahahah Dicevo Io la posso dare Voi fucking Ah non era un Ok Penso che fosse un oggetto Io vado qui Eeeee C'è un cane qua Eh mo Ancora un altro Emlock Uh L'R99 L'R99 Ah Ah Chi è che si è portato Lifeline come here Ehi, tutti morti? Bravo Vale la pena andare a grabbarsi un po' di roba Eh no Ma l'ho visto passare o era... The ring is quite far, there is not much time left Ok Ma non c'è un'emergiamo, almeno un zervanino C'è niente qui Si blocca il mouse perché... Uh, questo ha tanta roba Vorrei andare a vedere dove si chiude l'anello Vabbè stare a ste parti Diamo supporto logistico Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare Andiamo, andiamo Ma questi trottano proprio Ormai Sono un velocista Ve lo recuperate Grande Tutto mio Ma questo non lo prendiamo? Questo lo prendo Il pacemaker è here Dove c'è la... Let's explore this way Questa hop up here Round two Teava charger Beginning ring countdown Contact withoutbles Forget that You were eliminated Let's go, let's go Beh, i colpi sono messi abbastanza bene Attenzione, attenzione Ehi, level 3 mi salva a me Ma credo me lo fotterà quella Ok Ehi, lì dentro sembra ci sia qualcosa di interessante Si esce da qui No, no, questi sono Mi vogliono carriare Questa è una cosa viola lì dentro Bravo, mi va Penso che si spaccassero Questo è il calcio giusto Ah, è il calcio giusto L'extended livello 2 potrebbe tornarmi utile Oh no, ho fatto una di quelle manovre No, ce l'ho già Ce l'ho già quello molto più sgravo Ok Prendi l'ultima ecce Accelerant Ok Dove possiamo andare? Non c'è un cazzo che ci frega qua Uff Oh, il calcio L'ho fullato di ora Eh, non vi posso aiutare Bisogna passare da dentro Lo Spitfire Hm Ma sì, dai, proviamo Spitfire Un po' più Cazzudo Un po' più Sì, Are you ready to fly? Target over there I am Eh, quello mi potrebbe tornare utile Vado a prendere Madonna, 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 gelusalemme, gelusalemme Ma che cazzo Ma che cazzo mi ha sparato Ma che cazzo mi ha sparato Zio Bagashen, ma che c'aveva, oh No, 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 non va bene così, non va bene Thank you Via E vado di questo Se questi pushano sto un attimo ringhiuso Cazzo che sta sparando Dove cazzo stavano i nemici che mi sparavano? Se ci pushano ci hanno fatto È stato un pezzo da merda come si cazzo Ehi, guarda qua Bella puttana, madonsca Ciao 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 Ancani con me Ancani con me Ancani con me Ancani con me Volevo fare la cosa all'indiana Jones ma vabbè Caretta Siamo giusti qui Ok vuole aspettare di vedere dove spostarci Siamo giusti qui Siamo giusti qui Siamo giusti qui Grazie Buono Merda c'è uno in faccia Cazzo Buono Buona Dovevo scaricare sto cazzo di coso Siamo giusti qui Merda Via No 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 Cazzo Cazzo Ho fatto una Cazzo di manoprona di quelle a tenaglio No no Sono triste anche quando vinco Good job Good job No 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 no